salve a tutti e benvenuti nel mio nuovo canale dico nuovo perché io già avevo un altro canale di youtube mi chiamavo l'angolo dell'uncinetto però mi è stato rubato e niente volevo parlare come primo video su questo canale volevo parlare di questo e niente di fare di parlare un po di cosa che non avevo fatto sull'altro canale innanzitutto mi scuso se vedete questo questo visuale qua e non vedete me ma ho provato tantissime volte a mettermi la telecamera di fronte e parlare ma non ci sono riuscita ho vergogna e non sbaglio sempre come dire le parole ecco quindi questa è l'ennesima volta che provo questo video con la speranza di portarlo a termine niente comunque io avevo un canale di youtube mi chiamavo l'angolo dell'uncinetto cosa è successo l'ultimo tutorial che ho fatto è stato il 27 di luglio scusatemi dove ho fatto un video tutorial dei miei regali di compleanno una volta che il giorno diciamo di sabato visto che il mio compleanno era di venerdì cosa è successo l'ho pubblicato il sabato e il venerdì scusatemi l'ho registrato il sabato il video allora il video l'ho registrato di venerdì ma è stato pubblicato il sabato sabato sera mi arriva un email dal team di youtube dove io questo mobile lo faccio vedere il messaggio ma questo è stato l'ho tradotto perché mi è arrivato in inglese quindi ho messo google traduttore e l'ho tradotto e niente youtube mi diceva ciao all'angolo dell'uncinetto abbiamo ricevuto un reclamo in merito al fatto che sul tuo canale youtube sono presenti molti video spam ma non devi preoccuparti esamineremo il tuo canale dal nostro team di youtube e ti informeremo via mail nel frattempo ti consigliamo di non caricare nessun video inserisci le seguenti informazioni e rispondi a queste email altrimenti se il tuo canale non viene esaminato dal nostro team di youtube il tuo canale verrà chiuso grazie per la tua pazienza in questo processo e poi sotto mi dicevano collegamento canale denuncia per violazione di copyright sì o no e la tua password del canale io mi sono incominciata diciamo a preoccupare nel senso sono andata a cercare su google cosa fossero queste segnalazioni spam e niente cosa significa alla fine è pubblicità spazzatura possono avere anche queste segnalazioni spam possono avere anche scopi malevoli e truffatori io non mi facevo capace nel senso perché il mio canale comunque era riguardo all'uncinetto ho fatto sempre tutorial riguardo all'uncinetto e non capivo il motivo del problema chi è che mi aveva segnalato qualche video io subito ho pensato che magari il video dei miei regali di compleanno mi era stato segnalato e quindi prima di rispondere a queste mail sono andata a cancellare quel video quindi per chi l'ha visto lo sa che l'ho pubblicato e niente cosa faccio io a queste mail rispondo a queste mail metto il link del canale rispondo alla domanda dove mi dicevano denuncia per violazione di copyright ho detto no e ho messo la mia password e mi arriva un'email dove mi ringraziano e mi dicono di ah no prima di ringraziarmi mi mandano un'email dove mi dicono che non era stato possibile collegare entrare diciamo nel canale per risolvere la situazione ma dovevo inviare un codice che mi era stato inviato per messaggio sul mio numero di telefono da parte di google io questo messaggio lo inolto diciamo sulle mail e lo spedisco una volta spedito mi arriva di nuovo l'email dove mi ringraziano e che entro 24-72 ore dovevo ricevere una risposta dal team di youtube e dovevo cambiare la password comunque mentre vado a cambiare la password mi arrivano email da google dove mi dicono io ma qua se vedete questa striscia nera ho dovuto per forza togliere la mia email per non far succedere un altro macello ecco comunque mi arriva nuovo accesso sul dispositivo windows windows vicino agli stati uniti ecco qua con l'indirizzo ip io comunque qualcosa mi diceva che qualcosa non andava comunque ho fatto no proteggi il mio account una volta fatto questo ho cambiato la password sono andata su il mio canale youtube è tutto a posto mi è uscita la grafica gli iscritti e tutto quindi mi è uscita questo diciamo questo qua l'angolo dell'uncinetto che domenica vedete domenica a mezzanotte e 20 avevo 1441 iscritti di domenica mi sveglio di mattina c'è sempre il mio canale tutto a posto di sera mi arriva un email dove mi dice che una persona si era abbonata al mio canale per chi non sa cosa significa abbonarsi al canale significa che voi oltre a scrivervi a un canale preferito potete anche abbonarvi quindi una volta che vi siete abbonati pagate tot al mese e quel tot al mese che avete pagato va alla vostra youtuber o youtuber preferito o preferita e niente io questa operazione sul mio canale non la posso fare perché essendo che avevo 1400 iscritti comunque era una cosa che questo abbonamento lo poteva attivare un canale che magari aveva superato i 100.000 iscritti e quindi non mi facevo capace di questa cosa la sera fino a mezzanotte vado su google scusatemi su youtube per vedere se c'era qualche mail qualche commento qualche visualizzazione in più e niente è tutto a posto mi sveglio lunedì mattina e cosa vedo mi arriva un'email dove mi dice Hamza Adassinlar qua non so nemmeno pronunciarlo ora è proprietario dell'angolo dell'uncinetto questa email mi è stata inviata a mezzanotte e 10 io avevo posato il telefono circa verso le 11 11 e un quarto quindi a quell'ora già stavo dormendo questa email l'ho letta il giorno dopo il messaggio è privo di contenuto vado ad aprire la seconda email e c'è scritto questo il tuo accesso è stato modificato questa email mi è stata inviata da google ma è business non sei più il proprietario dell'angolo dell'uncinetto io tutta allarmata vado su il mio canale di youtube e cosa mi esce questo l'angolo dell'uncinetto crea canale cioè io il canale non ce l'avevo più ho segnalato ho fatto tantissime segnalazioni e niente comunque questa persona di nome Hamza Adassinlar qua che vi ripeto non so pronunciare nemmeno si è preso il mio canale e ha cambiato anche la grafica del mio canale allora quando fa di domenica era il mio canale vedete c'era scritto l'angolo dell'uncinetto 1441 iscritti di mattina mi è uscito l'angolo dell'uncinetto 1445 iscritti iscriviti io qua mi sono iscritta per vedere se magari lui cambiava qualche grafica infatti l'ha cambiato l'immagine del scusatemi della copertina e per vedere se aggiungeva qualche video per il momento ancora non ho aggiunto niente però questo è il mio canale cioè io mi devo iscrivere al mio canale questo era il mio canale cioè io qua dovevo vedere questo l'angolo dell'uncinetto 1441 iscritti mentre ora se andate a cercare trovate cioè io vedo iscriviti ora mi esce scritto iscritto vi faccio vedere ah questo è uno screen un attimo vi faccio vedere se io vado su youtube e cerco l'angolo dell'uncinetto vedete io sono iscritta faccio annulle faccio annulle iscrizione vedete mi esce scritto iscriviti cioè io mi devo iscrivere al mio canale ora guardate gli iscritti continuano ad iscriversi su questo canale perché comunque purtroppo da poco mi era stata attivata la monetizzazione io negli ultimi due video ho cercato di un attimo di scrivere qui dare un allarme ciao sono l'angolo dell'uncinetto questo era il mio canale mi è stato rubato da un americano ho messo il nome sempre se il suo nome aiutatemi a segnalarlo qualcuno ha messo mi piace però comunque vedo che comunque nonostante ciò si continuano ancora ad iscrivere le persone su questo canale che poi scusatemi è mio quindi ho fatto delle segnalazioni ora non so se cosa succederà e niente questo canale grazie ora mi sono aperto un canale grazie a diciamo il canale è stato segnalato è stato fatto tutto quello che si doveva fare mi è stato aperto il canale nuovo grazie a due persone che io è il mio dovere farlo grazie a loro grazie a lei che mi è stata vicina è annunziata capolongo che ha il canale l'onucreation che grazie a lei grazie al suo figlio che comunque è tecnico informatico e si occupa di questo mi ha aiutato ad aprire il canale nuovo e ha provato di tutto per vedere se riusciva tra virgolette a recuperare il canale però non c'è stato niente da fare quindi penso che comunque il canale è bloccato e ora ci sta lavorando anche youtube e questo è comunque quindi io li ho ringraziati il giorno che se ne sono andati da casa mia e le ringrazio ancora oggi per tutto quello che ha fatto per me anche logicamente il figlio niente poi detto questo volevo parlare un po' di me riguardo a me volevo fare una piccola presentazione nel senso che nell'altro canale non non ho mai detto come mi chiamo eccetera io mi chiamo Anna Maria ho 23 anni ho un canale dell'uncinetto che è la mia passione che diciamo ho scoperto da 4-5 anni ad ora quindi in 4-5 anni ho imparato a fare l'uncinetto e mi sono aperta anche il canale di youtube e niente mi chiamo Anna Maria già l'ho detto ho 23 anni comunque abito in un paese in provincia di Napoli e niente il mio canale come l'altro si occuperà principalmente dell'uncinetto e farò anche video acquisti oppure video recensioni se a voi magari interessa però la maggior parte sarà per l'uncinetto che sia una maglietta o un cappello o un centrino o una bombonina comunque questo sarà il mio diciamo la maggior parte dei video e niente detto questo il tutorial penso che può terminare qui sono a 13 minuti quasi 8 che sto parlando e niente se volete sostenermi vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina in modo da ogni volta che vi arriva pubblico un video vi arriva una notifica e niente se vi va vi iscrivete alla mia pagina facebook mi trovate come Idee Uncinetto e sul mio gruppo coperto da poco mi trovate come sempre Idee Uncinetto quindi io vi saluto se volete condividete questo video su tutti i social in modo da far arrivare a più persone che comunque mi sono aperto il canale e l'altro purtroppo mi è stato rubato io vi ringrazio di cuore e ci vediamo nel prossimo tutorial ciao